Cosa è il mio primo ballerino in sciopero? Chi ve, chi ve, anni fa, anni fa, questo, chi ve, ero già sul tavolo. Chi ve, chi ve, chi ve, chi ve, Sì, sì, sì! Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì. Sì, sì. Sì. Sì.